Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Ma ciascuno meritevole di attenzione. Da una parte è stata valutata la necessità degli operatori economici di organizzare nei prossimi due mesi le manifestazioni musicali e gli spettacoli temporanei che hanno lo scopo di offrire ai turisti una offerta di intrattenimento all'altezza delle aspettative. E dall'altra si è inteso tutelare il diritto alla salute ed al riposo della cittadinanza. Diverso avviso per quanto riguarda invece le altre due ordinanze emanate. Una prima interpretazione, sottolinea Confessercenti, ha fatto emergere nelle nostre imprese associate diversi dubbi interpretativi che ci è stato difficile chiarire. Tali divieti di fatto determinano le condizioni per la cessazione e la chiusura delle attività. Con spirito di collaborazione e di apertura al dialogo è stato chiesto con urgenza un incontro che è stato accettato dalla Commissione straordinaria in modo da evitare ulteriori disagi. Festeggiati i 60 anni di sacerdozio di Don Cosimo Palma per aver servito con fedeltà ed impegno la Chiesa. L'altra sera nella Chiesa di San Francesco d'Assisi i sacerdoti della nostra città, i fedeli e tanti amici hanno manifestato la propria gioia. Il servizio... A nome dei presbiteri e a nome della nostra città, grazie e auguri. Oggi sono in festa e mi fanno la festa. Sono 60 anni di sacerdozio. Sono stato ordinato in 1962 dall'Annunziata. Vivo il mio sacerdozio oggi qui nella Chiesa di San Francesco, un cammino che è abbastanza lungo, che certo nel cammino ho incontrato persone tante, in ambienti diversi, con caratteristiche diverse. La famiglia prima di tutto. È stato il germe, è stata la curva della mia vocazione al sacerdozio. La parroccia di origine, l'Annunziata, anche quella, una seconda famiglia, una famiglia di fede. I due sacerdoti che ho incontrato in quella parroccia, Don Giovanni Antermi e Don Vincenzo Marseglia, i miei angeli custodi, Don Vincenzo mi ha portato a Brindisi nel seminario minore. E lì ho vissuto tre anni di seminario. Da Brindisi, seminario minore, a Molfetta, seminario maggiore. Lo sport mi ha preso pure. Il pallone è stato sempre la mia passione. È il filo rosso del mio cammino, da laico, da ragazzo, da giovane e da sacerdote. Ho amato molto il pallone e giocavo. Ho fatto delle partite importanti pure al campo sportivo di Ostoni. Ero tra quelli che mettevano in pericolo il portiere. E come hai fatto? Dicevano a fare il gol. Ho fatto. Voglio giocare io e trovo i momenti per trovare il modo di giocare. Voglio mettere in croce altri vini fino a giocare con me. Mi piace giocare. E certamente dopo la frattura della gamba testa, io non sono nato di sinistra. Ho imparato a giocare di sinistra. E poi vorrei portare certi colpi che avevano col mio sinistro. E la parroccia della cattedrale è stata il mio forte di esperienza sacerdotale. Devo ringraziare io che a me si è rivolta dando i miei auguri. Magari mettendo in evidenza il loro ringraziamento per quello che è stata la mia opera a loro favore. Ma c'è un grazie a Dio da dire a tutti e a tutti. Perché un sacerdote è sempre uno strumento di sollecitazione al bene, di formazione d'umanità, di fede. E quindi c'è un bene comune che si ricerca e si mette in evidenza. E grazie a voi che avete anche questa attenzione di spargere cose belle. Perché un sacerdote che fa 60 anni è nella bellezza della vita. Deve cantare la bellezza della vita e deve incoraggiare a vivere la vita. Grande donna di Dio, senza altro. Presso la confraternita del Carmine di Ostuni, quarto giorno di novena per la solennità della Beata Vergine del Monte Carmelo. Alle 8 si tiene la Santa Messa, alle 19 il Santo Rosario e la Benedizione Eucaristica. Per tutta la novena la Messa sarà celebrata da Don Francesco Cisaria. Nella splendida cornice del Giugra incontrata Pasca Rosa, questa sera alle 22 Deborah Johnson in concerto. Reduce dalla recente partecipazione a tale quale show, figlia del grande cantante e musicista Wes. Presenterà in esclusiva il suo nuovo singolo, I Feel Love, appuntamento da non perdere. Prenotazioni al 327-014-7286. Questa sera alle 21 nel Chiostro San Francesco verrà presentato il libro Meglio di ieri di Laura Boldrini, già presidente della Camera dei Deputati. Dialoga con l'autrice il cardiologo Fabio Sgura. Evento Un'Emozione Chiamata Libro, in collaborazione con l'Associazione Amici del Cuore. Occasione utile per discutere di sanità e prevenzione. Inaugurata la mostra d'arte contemporanea itinerante La Via dell'Angelo, presso il Museo Diocesano. Espongono 12 artisti. L'evento è curato da Enrico Mea e da Rassegna Italia. Le opere saranno in visione fino al 15 di luglio. Le parole di Luigi Casale. Buonasera a tutti, sono Luigi Casale. Sono qui a questa mostra che si chiama La Via dell'Angelo. È una mostra itinerante che è stata ideata dal maestro Enrico Meo. Enrico Meo è un artista di grottaglie, che ha avuto una grandissima risonanza come artista, come pittore, dipinge a larga scala anche a livello internazionale e ha radunato, diciamo adesso questa volta, nella quinta edizione che abbiamo organizzato, ha messo insieme questi 12 artisti che sono, diciamo, di territori diversi. Il tema è la Via dell'Angelo, quindi è un po' un tema sul quale tutti gli artisti si sono soffermati dando appunto una parte, una interpretazione diversa di questo tema, che è un tema molto sentito da parte soprattutto di molti di loro. La mostra si terrà, allora, noi abbiamo avuto una proroga fino al 15 di questo mese, quindi è stata prolungata, in questo contesto bellissimo che è la Casa del Vescovo. La Casa del Vescovo è un contesto veramente eccezionale anche dal punto di vista architettonico, ambientale, perché poi il presidente Michele Conte ci è venuto incontro dandoci questa bellissima location. Alle 11 in punto su Raggio Stuni ritorna il programma in dialetto Stun e gli Stunis, con ospiti d'eccezione coagiuvati dalla partecipazione straordinaria dei nostri affezionati ascoltatori. Il bollettino di ieri registra 8.251 contagi in Puglia e 8 decessi, 864 casi Covid nella nostra provincia. Si è spenta, all'età di 92 anni, Angelina Calamo, vedova Maggiolini. La celebrazione sequiale oggi alle 10 nella parrocchia di Santa Maria, madre della Chiesa. Sentite condolianze alla famiglia. La farmacia a Matarrese effettua quest'oggi il turno pomeridiano e notturno. A Villanova, Marina di Ostuni, è aperta tutti i giorni, festivi compresi, la succursale estiva della farmacia Santoro, dalle 8.30 alle 13 e dalle 17 alle 20.30. Meteo, la perturbazione si sposta verso est, in arrivo un miglioramento del tempo con ampi spazi soleggiati e un graduale aumento della temperatura. Venti moderati settentrionali, mare mosso. Citazione odierna, la forza dell'albero non sta nei rami, sta nelle radici. Buona domenica. Buona domenica.